all'appuntamento è mercoledì alle 22 con lupi in angola no 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 claudio ti stai sbagliando perché da lunedì la regina di questo studio sarò io sarò io perché cominceremo una nuova trasmissione mi prendo anche la tua lavagnetta finalmente andrà così ci sarà una nuova trasmissione qui sono il mio tv per cui saranno ragazzi ragazzi non l'indicate saremo in tre lunedì alle 21 e 30 la prima puntata di scena da un campionato scena da un campionato ripercorreremo tutta la stagione dell'avellino lo faremo analizzando le partite naturalmente cerchiamo anche i vostri contributi dei tifosi cercheremo di ricostruire passo dopo passo tutte le partite dei bianco verdi per quest'anno e non sta dimenticando una cosa sì il gol più bello della stagione dell'avellino chiaramente lo voterete voi allora abbiamo fatto pace l'appuntamento lunedì alle 21 e 30 ce ne non capirà